Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un neomaggiorenne ritenuto responsabile di alcuni episodi di rapina e furto pluriaggravati. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro dopo gli approfondimenti investigativi della squadra mobile rafforzati anche dagli elementi probatori acquisiti in occasione dei numerosi interventi delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e soccorso pubblico dai quali è emersa la responsabilità dell'indagato in almeno 5 episodi dilettuosi che si sono verificati tra febbraio e agosto del 2021. Nel primo caso il giovane in compagnia di amici minorenni dopo aver gettato a terra un coetaneo lo aveva minacciato con un coltello e gli aveva sottratto alcuni euro e un telefono. In un'altra circostanza invece avevano spintonato e minacciato due minorenni per farsi consegnare del denaro colpendone uno con un pugno. Inoltre il giovane ed un altro ragazzo sono risultati coinvolti in un furto con effrazione in uno stabilimento balneare dal quale erano stati rubati gelati e bottiglie di vino. In un altro episodio poi si era impossessato di una city bike lasciata parcheggiata dal proprietario nelle vicinanze di una chiesa. Ma non solo, l'indagato sarebbe responsabile anche di un furto e i danni di un'anziana signora, infatti approfittando dell'ospitalità della donna, le avrebbe sottratto un anello d'oro. Dalle minuziose indagini compiute dagli investigatori e coordinate dalla Procura della Repubblica, è emersa una particolare inclinazione delinquenziale del neomaggiorenne che, a dispetto della giovane età, ha dimostrato di non avere scrupoli nel commettere i reati, in particolare contro il patrimonio.